Buonasera signore e signori sono Ash88, benvenuti con la parte 15 della nostra guida a Pokémon Omega Ruby quest'oggi abbiamo sconfitto Walter, cioè quest'oggi per me che sto registrando la parte ma nella scorsa parte abbiamo sconfitto appunto Walter quindi andiamo a fare qualche piccola pompera prima di partire per il viaggio vediamo un po' come sono messo di strumenti io abbastanza male perché non ho strumenti niente, bene perfetto ho finito anche i soldi però vabbè, ci bastano questi ok allora credo che possiamo andare un po' a sinistra, qua si dovrebbe andare verso il percorso qua c'è le panchine andiamo qua su non si capisce niente con questa citronica di nuovo che cos'è questo? buah polpette magnemite buah, beh non lo so qua che c'è un po' qui si ritorna verso ciclamipoli mi sembra, si esatto quindi a sto punto io credo che potremmo prendere e andare direttamente verso nord ok uscire da qua ultim magma via verso la prossima meta ma qual è la prossima meta? il monte cammino ma se stiamo qui a scincischiare Ottavio non sarà affatto contento il monte cammino una volta attraversati il percorso 112 c'è ancora un bel po' di strada avrei dovuto portarmi qualcosa da mangiare e vabbè e loro se ne vanno quindi andiamo dietro assolutamente anche perché dovremmo sventare i loro piani percorso 111 ok proseguiamo la cosa la prima cosa da fare che voglio fare immediatamente è sostituire un mashtomp con ah un duro vai vediamolo subito all'opera il nostro il nostro roundum ho svegliato la famiglia vinci ma 4 notti una dopo l'altra sono troppe per me mi hanno annientato allora la cosa bella che qui si possono fare 4 notti una dietro l'altra o 5 contando la vecchia che danno un sacco di esperienza questa è una famiglia vinci che dovrebbe essere non lo so perché qui dice nelle vecchie lezioni mi sembra che diceva che tipo il loro nipote aveva sfidato la lega pokemon mi pare una cosa del genere comunque sia uh uh grandissimo ha un doom non mi aspettavo che era così tanto forte non non è stato nemmeno vissato almeno a quanto so nel senso che non è stato modificato o altro perché l'ha fatturato così eh random perché lui aveva pokemon zaffiro e cosa ha fatto ha detto intanto io lo devo ricominciare se vuoi qualche altro pokemon io mi sono fatto scambiare se andate nel box ovviamente ci saranno compresa anche nel box e adesso eh tutti i leggendari che c'erano dai reji eh miung tu eh i giraci praticamente tutti lugia ho ho eh perché appunto qui aveva voglia di rincominciare il gioco però mi ha detto tm lì almeno se eh decidiamo di combattere insieme o comunque sia eh rincominciare il gioco e li puoi subito utilizzare ecco mi li ripassi allora intanto abbiamo shumish che si sta evolvendo fortunatamente eccolo qua quindi abbiamo anche brellum perfetto grandissimo fantastico bene shumish si è evolvuto in brellum pokemon adesso è diventato lotta eh erba e tento di imparare pugno rapido ovviamente glielo faccio eh imparare al posto di paralizzante paralizzante tanto ha l'abilità spora quindi non credo che mi serva mi servirà più pugno rapido che altro perfetto allora il primo eh della famiglia minci eh l'abbiamo apportato era il padre adesso sfideremo la madre poi dov'è usare la figlia e poi la donna con roselia bene guarda che è un numero tipo brascere eh perché almeno sarebbe stato anche questo un match facile ma io confido in lui proviamo ad utilizzare smog non so se possa essere super capitato meno no infatti perché roselia è erba veleno mi sembra mi ricordo comunque sia utilizza foglia magica non ci dogna molto allora noi via con morso bene perfetto un'altra bacca anche roselia come lo zizzagun del padre bene tentenna quindi non ci può attaccare utilizziamo un altro morso e lo mando a cappò grandissimo mi sta piacendo un botto questo che abbiamo ricevuto e ben 900 punti esperienza quindi sono veramente veramente tanti ok perfetto ottimo e adesso dovrebbe esserci la figlia se non mi sbaglio davvero ve lo dico eccola qua sei più forte la mano ma wow ma anche io sono ora che lo dimostro diventa un mostro lei tipo è un megazord in realtà ha tre pokemon il suo primo pokemon è un goldin però di motivi cambierò e non lascerà un dur anche perché si deve tra poco evolvere si deve allenare non voglio che già mi mi cada quindi mandiamo brellum vediamo un po' come si comporta il nostro pokemon lottatore ed erba eccolo qua grandissimo brellum utilizza incornata golden 8-7 vabbè non tanto e quindi via con il mega sorvimento che dovrebbe essere sia super efficace che mandarlo cappò con un attacco sbagliato invece ok usa super suono quindi ci confonde e proviamo con pugno rapido vediamo un po' che mi chiamo una fortuna dai brellum attaccalo no si colpisce da se solo che cazzo ninja plagello godin è anche abbastanza efficace se il pokemon che utilizza cioè se il pokemon che utilizza plagello è scarso di pieste plagello una volta almeno nei vecchi vecchi giochi era veramente un portento comunque zinza con sale a livello 19 tende di imparare missy spillo ovviamente non glielo faccio apprendere perché non mi serve averlo adesso manderà numel e a questo punto io manderei marsamp per essere più tranquilli e non incorrere in qualche sorpresina ok marsamp tra l'altro quasi a livello 25 che tra 11 livelli quasi 11 diciamo 11 livelli si evolverà utilizziamo colpo di pango è super efficace ovviamente il numel non ha più energie viene abbattuto ok marsamp seco sono le 25 domanderemo uno shroom adesso io però per essere più tranquillo mando a su quello almeno lo vediamo un po' come si comporta vediamo grandissimo sta tipo lievitando lievitando e qui si dice levitando o lievitando lievitando è lievito lievitando ok aereo assalto disuello manda capo rumish ottimo abbiamo sconfitto a viviana eh non dimmi che ho terzo no ora fa no nonna almeno in quella si faceva così che rabbia viene da piangere nonna eh lo sapevo io ah hai fatto piangere la mia nipotina come si fa la mia nipotina te la farò pagare preparati dalla disfatta questa ti distrugge una vecchia una bagaccia allora vifi famiglia vinci è un solo pokemon meditite ok noi soffriamo eh con un'unim davanti ricordiamoci quindi mandiamo un svello per essere tranquilli tranquilli eccolo qua scusa palmo forza 825 non male usiamo aeroassalto animazione di aeroassalto veramente spettacolare ok ok svello 264 punti esperienza sale anche lui a livello 23 e andume 396 punti esperienza e metang sale a livello 23 tenta di imparare in seguimento allora vediamo un po' le mosse di metang ma non credo forse riguardo eh ma grandi colpi in modo lasciarli a me non chiese si facciamo dimenticare perché in seguimento è una mossa buona specie sia per il pokemon tipo psico ma specie perché se vi è risostituito il pokemon a cui noi utilizziamo in seguimento il danno era dopo quindi a 40 e a 80 se non va di fretta resta a farci compagnia per un po' ehm lo strumento che vi da mi sembra se parlate con la madre eh cresci sciarpa mi sembra eccola qua che vi aiuta a far crescere i pokemon più veloci ecco certo che sei forte ma se confrontassi con mio nipote finissi per piangere le lacrime ma era molto più forte di qualsiasi allenatore che conosciamo ora mio nipote sta già affrontando il campione della lega pokemon lo conoscendolo magari l'ha già sconfitto eccolo qua infatti era imparentata il nipote ma no vabbè comunque hanno perso allora proseguiamo passù usiamo il spaccaroccia una e troviamo una scuola a cuore ottimo via fare un passo grazie si vabbè allora utilizziamo un rimedio su un doom una porzione classica perché qui ci sarà una lotta in doppia mi sembra una utilizza un macrimite e una wismush se non mi sbaglio quindi credo che un doom e brelum si comporteranno benissimo proviamoli un po' oh abbiamo appena incontrato un allenatore sembra davvero un camba un camba ma perché sbaglio delle parole stupide veramente sembro dislessico ma in realtà non lo so un camba macrimite ok grandissimo brelum che manda KO il macrimite cos'è morso invece a un doom su wismush oh grandissimo non credevo che lo sconfiggesse con un morso grandissimo a un doom ottimo ottimo bene teo e teo spero stai sconfitti alla grande proprio no non voglio fare un'intervista ok affrontiamo anche questa fanta allenatrice noi ci servono i punti esperienza per far crescere la nostra squadra a due pochi mono in plazole sicuramente anche un main un ora però con un doom se non ha mossi tipo speciali ma solo fisiche tipo mozzo non so se magari si possa anche si possa paralizzare vediamo spero di no se non abbiano statico grandissimo a un doom intanto 729 punti esperienza ragazzi grande ha un doom sale a livello 24 quindi tecnicamente si dovrebbe evolvere e illumise pensavo avesse il plazole e il mine invece no ha un illumise usiamo un morso ok utilizza fascino quindi ci fa calare l'attacco fisico a picco però un altro morso credo che sia sufficiente per un doom esatto perfetto un doom riceve 972 punti esperienza zizagun sarà a livello 20 che strazio ragazzi è che fino a quando non ho volo zizagun forse dovremmo tenere in squadra comunque si ha un doom si sta evolvendo finalmente quindi me la godo tutta questa evoluzione grandissimo è spettacolare a undurre no in a undun a undun si è avuti in a undun non mi sbaglio anche con i nomi ok oh zizagun si sta evolvendo guarda gliela concedo perché è veramente un pokemon che ho sempre schiavizzato quindi gli concedo anche di evolversi in linun eccolo qua linun lasciatemi che vi dico una cosa linun non è un pokemon malvagio perché può imparare un sacco di mt e mn compreso surf attenzione anche un discreto attacco fisico però insomma prima di scegliere un pokemon normale da mettere in squadra ci penserei ben bene speciale se è un linun ma comunque sia philip manda il campo sensori la prima volta che lo vediamo in questa versione un pokemon della prima generazione lotterà contro il nostro audum appena è voluto vediamo un po' di quanto si è potenziato l'attacco con un attacco morso la meta buono usa magnitudo anche se super efficace spero che resista a undum alla grande resiste utilizziamo un altro attacco morso perfetto e anche sensori è mandato capo quindi con questa vittoria spero che vi sia piaciuta questa parte perché si va a concludere adesso con un'attenzione che vi dico guardate commentate iscrivetevi ciao ciao ragazzi